buon pomeriggio ragazzi buon pomeriggio a tutti voi benvenuti in questo nuovo video allora due premesse prima del video di oggi e scusate per l'assenza di ieri ma avuto talmente tante cose da fa che non ho avuto neanche il tempo di fare un video e poi volevo ringraziare tutti i miei iscritti tutti quelli che guardano i miei video perché oggi sono arrivato a quota 200 iscritti voi direte non è che siano così tanti però per me comunque è un traguardo prestigioso averli averlo raggiunto per cui ringrazio tutti i miei iscritti quelli di vecchia data e quelli nuovi e spero comunque di poter crescere insieme a voi allora video particolare oggi intanto per quanto riguarda il mercato è soltanto una notizia che poi armai orale vicinissimo alla roma dovrebbe arrivare inizio prossima settimana sarà il vice zego ed è questo uno dei punti che il mercato della roma doveva affrontare cioè un vice giocatore per far rifiutare il nostro edin e arriverà comunque con la formula del prestito con diritto di riscatto oggi è domenica domenica 27 stasera si gioca roma juventus è inutile dirvi cosa rappresenta questa partita per i tifosi della roma tifosi soprattutto di vecchia data come me che insomma sono del 73 per cui mi sono vissuto tutti gli anni 80 diciamo è una partita molto molto sentita per la roma sentita forse alla pari del derby una partita che nel corso degli anni ha significato molto per i tifosi della roma perché è sempre stata la rivincita delle squadre magari come succedeva anche con napoli di maradona le squadre del centro sud verso il potere del nord il potere insomma juventino il potere della famiglia agnelli il potere della squadra che vinceva e tra virgolette anche rubava le partite con l'appoggio degli arbitri e tutto quanto la formazione ragazzi sappiamo benissimo l'ha data ieri fonseca anche se secondo me ha fatto pretattica comunque è una formazione che è la più diciamo la più affidabile che potesse mettere in campo perché ci sarà sempre mirante in porta ci sarà con bulla al centro della difesa quadro vado dai banez e mancini pellegrini scalerà dalla trequatti a centrocampo insieme a veredù sulle fasce ci saranno spinazzola e sembra giochi santon poi ci saranno praticamente petro e migliori anni dietro a zeko ragazzi cosa aspettarsi io ho sempre ho sempre avuto fiducia in questa squadra anche se magari il mercato non è stato fino adesso come noi speravamo so che arriverà qualcun altro la juventus è sicuramente una squadra forte è ancora la più forte del campionato la roma però può dire assolutamente la sua secondo me non partiamo assolutamente battuti oggi anzi è proprio nelle difficoltà che la roma di fonseca è sempre saputo reagire uscire dalle crisi anche con con grande carattere grande determinazione sono sicuro che stasera la roma qualunque vada farà una grandissima partita farà comunque renderà vita renderà cara la pelle a questa juventus che comunque anche loro hanno cambiato parecchio con l'arrivo di pirlo hanno cambiato modo di gioco la partita con la sandoria è poco indicativa secondo me perché anche loro poi hanno perso in casa col benevento quindi voglio dire la juventus secondo me ha giocato col velluto la roma a verona strappato un punto poteva vincere con una squadra comunque molto più forte per cui anche la juve dovrà affaticare non poco questa sera per imporsi il tempo qui a roma è pessimo a più tutta la mattina adesso c'è un una leggera tregua però vengono date piogge fino a stasera penso che la partita comunque si giocherà senza problemi anche se ci potrebbe essere qualche problema se dovesse magari fare delle bombe d'acqua come ha fatto qualche giorno fa dove in un'ora ha legato tutta roma quindi lì già sarebbe un problema e ci potrebbe essere il rischio di rinvio però per adesso penso si giochi e quindi aspettiamo questa partita il tifoso della roma aspetta questa partita in modo veramente veramente complicato perché io ecco stamattina mi sono alzato anzi non mi sono alzato tornato da lavoro non sono uscito subito a prendere sonno perché comunque già pensavo alla formazione alla partita di stasera le condizioni del campo e ho dormito poco mi sono alzato sono fatto una doccia ho pranzato e adesso niente adesso sono in completa pre partita in ansia pre partita e sperando sempre di poter avere una gioia questa sera il tifoso della roma ragazzi è un tifoso caldo è un tifoso che che sprizza amore da tutti i poveri che spizza passione da tutti i poveri non so qui a chiedervelo a raccontarvelo però se dovessi definire il tifoso della roma lo definirei come un innamorato che qualunque cosa possa accadere sempre legato alla sua donna diciamo quando noi abbiamo il tifoso della roma è abituato comunque alla sofferenza è abituato a vincere poco quello è chiaro è abituato ad avere poche soddisfazioni ma quelle poche soddisfazioni sono vere sono autentiche sono limpide sono meritate per questo noi vinciamo poco ma quando vinciamo ragazzi festeggiamo come abbiamo fatto col campionato 2000 2001 abbiamo festeggiato per mesi io mi ricordo andavo in giro per vari quartieri di roma un po per lavoro un po perché uscivo con gli amici un po perché era comunque estate quindi si usciva la sera si andava in giro e mi ricordo che quasi tutti i quartieri quelli popolari tipo trastevere tipo testaccio tipo garbatella tipo cine città dove sono nato c'erano feste ovunque ritrovi di ragazzi che festeggiavano quando andavi per parchi trovavi ragazzi che giocavano a pallone con la maglietta della roma con le tende che magari passavano la serata lì per stare insieme per condividere questa gioia che ci è mancata per tanti tanti tantissimi anni e il tifoso della roma è così si gode quel poco che che riesce a festeggiare ma se lo gode fino in fondo perché ripeto quello che che vive il tifoso della roma sono gioie attaccamento ai colori attaccamento alla maglia attaccamento alla squadra in tanti anni noi abbiamo avuto delle formazioni magari che non hanno vinto molto anzi niente però erano comunque considerate squadre che i tifosi da roma hanno amato alla follia come la seconda roma di mazzone che giocava magari con cervone carboni annoni benedetti statuto piacentini e vincevamo poco perché comunque c'erano squadre nettamente superiori alla roma ma era una squadra che veniva amata alla follia perché non correvano tutti dall'inizio alla fine davano tutto in campo per questa maglia davano tutto su ogni pallone lottavano come leoni e anche se perdevano poi lo stadio li applaudiva perché facevano tutto in campo per cercare di arrivare alla vittoria di sudarsi per questa maglia ed è questo quello che vuole vedere il tifoso della roma quando va a vedere la partita della roma devi dare tutto in campo devi essere consapevole che questa maglia che porti è una maglia che va onorata fino in fondo che va amata fino in fondo che va rispettata fino in fondo e questo il concetto del tifoso romanista il grande attaccamento che i calciatori devono dimostrare ai colori della roma e la roma di ne fu un chiaro esempio di quello o la roma che arrivò in finale di coppa uefa con l'inter l'inter dei tedeschi era una squadra fortissima della che aveva vinto il campionato con record di punti due anni prima e la roma giocava con gente come di mauro gerolin nela c'era rudifelle c'era rizzitelli i giannini ragazzi una squadra che era nettamente inferiore ma che fece una partita all'olimpico tra le più belle che abbia mai visto in vita mia non riuscendo a ribaltare un risultato che c'era stato rubato all'andata con un rigore scandaloso dato all'inter e mi ricordo la grande delusione ma la grande il grande affetto il grande applauso che tutto lo stadio fece a quei ragazzi per aver sfiorato un'impresa storica e c'è di più che il giorno dopo ragazzi c'era l'addio di bruno conti e c'erano più gente all'addio di bruno conti che alla finale di coppa uefa del giorno prima e questo vi fa capire quando certi giocatori che hanno fatto la storia della roma che sono sempre rimasti a roma e che hanno dato tutto della roma siano amati e siano rispettati è questo che il tifoso della roma cerca rispettare determinati giocatori che hanno dato tutto a cui poi danno una dimostrazione d'amore infinita come l'hanno fatto con totti come l'hanno fatto con de rossi quindi ragazzi stiamo vicino alla nostra squadra siamo sereni tifiamo questa sera andiamo allo stadio per quel poco che ci si può andare vediamo la partita insieme raduniamoci come abbiamo sempre fatto per tifare la nostra squadra e speriamo veramente che questa sera quei ragazzi ci possano regalare una gioia grazie grazie grazie